Io sono basito ragazzi, io resto veramente basito, mi vergogno, mi vergogno di vedere e di leggere determinate cose Vedo cose vergognose, schifose che mi fanno vergognare, scusate la ripetizione, ma ragazzi è quello, è quello Mi fanno vergognare addirittura delle volte di seguire il calcio, determinate cose, e io ne resto basito Ma veramente, ma veramente qualcosa di inaccettabile, qualcosa di inaccettabile, mi fa incazzare da morire Allora andiamo per gradi, andiamo per gradi, prima di iniziare, come sempre, se non l'avete già fatto e mi da lasciare tantissimi Mi piace qui sotto, ma tantissimi, iscrivetevi al canale in questo momento perché il 35% di chi mi segue non è iscritto al canale Ma non solo, vi ricordo anche che ogni giorno alle ore 16.30 siamo in diretta sulla piattaforma Viola Ogni giorno su Calcio Totale, mi raccomando, un'ora al giorno dalle 16.30 E soprattutto abbiamo messo un obiettivo, se arriviamo a 300 sub, entro sabato, compreso, domenica Io e Gabbo facciamo una diretta insieme, live, reaction di Roma-Lazio Quindi mi raccomando, se volete vedere la diretta insieme, in live, arriviamo a 300 sub, in diretta, ore 16.30 Detto questo, io resto basito Io faccio fatica addirittura a definirli tifosi Ve lo giuro, allora a parte che ho sempre fatto fatica, non vi negherò, non vi negherò che ho sempre fatto molta fatica A definire tifosi i tifosi del Paris Saint Germain Perché non voglio essere cattivo, ma i tifosi del Paris Saint Germain, la stragrande maggioranza, sono arrivati insieme ai soldi Cioè non voglio dire che il Paris Saint Germain si è comprati i tifosi, però siamo lì Siamo lì, nel senso che più arrivavano gli ottimi acquisti, più arrivavano i nomi grossi E più arrivavano i tifosi, ok? E questo è stato, non che il Paris Saint Germain non abbia storia Il Paris Saint Germain ha preso Beckham e se non sbaglio l'ha preso prima dell'arrivo di Alkelaifi C'è andato a Ronaldinho tra l'altro il Paris Saint Germain Però se andate a guardare i tifosi di prima, i tifosi che attualmente ha il Paris Saint Germain Che sono, ho letto, tipo 35 milioni in tutto il mondo Sono tipo mille per i tifosi attuali rispetto a prima Sono aumentati a dismisura, perché sono arrivati i soldi ragazzi Perché sono arrivati i soldi, perché sono arrivati i campioni E allora tutti tifano Paris Saint Germain È una squadra fatta con i soldi, con i soldi E quindi io faccio già fatica da me a, diciamo, giudicarvi come tifosi Ora voi direte, ora voi direte Vabbè sì, però ci sono anche gli Originals Perché il Paris Saint Germain è una squadra storica Quindi anche prima dei soldi i tifosi ce li ha sempre avuti Alzo le mani Però, se siete Originals e conoscete la storia di merda Il passato di merda del Paris Saint Germain Dovreste anche darvi una regolata E io veramente mi vergogno da tifoso di calcio Prima di tutto, prima che della Roma, prima che di qualunque Da tifoso di calcio, da amante del calcio Io mi vergogno a vedere determinate cose Determinati atteggiamenti E lasciatemi dire che non vi meritate un cazzo Se il Paris Saint Germain non riesce a vincere la UEFA Champions League È perché, prima di tutto, non sapete perdere E prima di vincere bisogna imparare a perdere, ragazzi E voi non sapete perdere Voi non sapete perdere E non sapete manco vincere I vostri genitori non sanno vincere Ma non in campo, eh Anche in generale nel comportamento Vi ricorderete quando il pari arrivò in finale Che Neymar ogni volta andava a prendere per il culo Una volta l'Atalanta con Baila Como e il Papu E un'altra volta aveva preso per il culo Forse Holland, non ricordo Andava periodicamente a prendere per il culo qualcuno Neymar E tutta la combriccola Perché si sentivano i bulletti di quartiere Poi sono usciti e se la sono presa in culo E tutto il mondo ha goduto Ok? Detto questo, questo per me è non sapere nemmeno vincere Perché si vince con umiltà Ok? Si vince prima di tutto Prima di tutto Con umiltà Questo è, secondo me Perché nella storia abbiamo visto veramente Rivali storici Abbracciarsi dopo un calcio di rigore sbagliato all'ultimo E quindi personalmente Credo che prima di tutto bisogna saper vincere I tifosi non sanno nemmeno perdere Questo è, questo mi dimostrano sul campo Innanzitutto il Paris Saint Germain ragazzi è uscito con il Real Madrid Cioè non è che se fossi uscito Allora, tipo tifosi della Juventus E volevano vincere la Champions Hanno preso Ronaldo e tutto quanto Li capisco, sono usciti con l'Ajax Sono usciti con il Porto Sono usciti con un'altra squadra che è l'Ajax-Porto E voi ve lo ricorderete Perché ovviamente è stata a 3.000 Ma io regal mi ricordo un cazzo Boh, mi ricordo Ma mi soverrà Fatto sta che sono usciti con tre squadre alla portata Che si potevano tranquillamente eliminare E che non hai eliminato Ajax e Porto Sono l'esempio più lampante E quindi è normale che un tifoso Juventino Possa rodere il culo Anche perché per fare questa cosa Aveva preso Cristiano Ronaldo Ma il Paris Saint Germain Che becca il Real Madrid Il Real Madrid La squadra più titolata al mondo Agli ottavi Se la gioca alla grandissima E la perde con un totale di 3-2 Con l'ultimo risultato al Bernabeu Ragazzi ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Ma ora io vi dico Io ho goduto come un sorcio Ho goduto Però Però parliamoci chiaro Però parliamoci chiaro Il Paris Saint Germain Nei 180 ha giocato meglio Cioè il Paris Saint Germain Ragazzi ha avuto una piccola parentesi Piccolissima Di blackout E il Real Madrid Da squadra storica Gigantesca Abnorme Qual è? Ne ha ampiamente approfittato Perché? Perché sì Perché il Real Madrid fa questo Perché le squadre con grande storia Fanno questo Questo è ciò che fanno le grandi squadre Punto Cosa mi sto riferendo a tutta questa manfrina? Ragazzi il Paris Saint Germain Allora partiamo dal fatto che il Paris Saint Germain È sceso in campo con il Ren Ha vinto 3-0 E Messi e Neymar Sono stati pesantemente fischiati Ma pesantemente intendo Dal primo all'ultimo minuto Sono stati fischiati Tra l'altro già dall'inizio Quando il commentatore ha detto i nomi All'inizio Fischiati pesantemente Pocettino Ogni volta che venivano Primo quando è stato nominato Poi ogni volta che veniva inquadrato in campo Veniva fischiato Subbistolo di fischi Ogni volta che Messi e Neymar Prendevano palla Venivano fischiati Per tutta la partita E l'unico uomo Che non è stato fischiato È Kylian Mbappé Che se posso permettermi Siate anche bei paraculi E io spero per voi Che Mbappé se ne va Anzi spero per me Alla faccia vostra Che Mbappé se ne vada Perché non lo meritate Perché non fischiate Mbappé Perché ha fatto la gran partita Con Real Madrid Non credo Perché è vero Ha fatto una gran partita Ma molti altri hanno fatto una gran partita Neymar sono anni che ti trascina Perché prima di Neymar Eri nel buco del culo del mondo Ok E quindi non mi venite a dire Che Mbappé non viene fischiato Perché onore e rispetto No perché vogliono tenerlo Perché non vogliono che se ne vada Perché manca la piccola goccia Per far traboccare il vaso Gian Mbappé se ne vuole andare Se lo fischi va via Mbappé va via Quindi i loro furbi Non lo fischiano Loro furbi Hanno fatto lo striscione Mbappé a Parigi Leonardo a Lagogna Leonardo Ma l'avete visto ragazzi L'avete visto come hanno imbrattato Il centro sportivo e lo stadio Ma avete visto Ma qualcosa di surreale Ma qualcosa di surreale Hanno scritto Leonardo figlio di puttana Dimettiti Che poi Leonardo ragazzi Ha fatto un lavoro Pazzesco Con i soldi Con i soldi sono capaci tutti È normale che se hai Una fracca di soldi Fai un gran mercato E se puoi permetterti Di prendere Messi È normale che puoi fare Un gran mercato Però devi andare a Convincerlo Io prima di tutto Dico questo Devi andare a convincerlo Se oggi alla Roma Arriva Uno sceico E abbiamo 300 milioni Per prendere Mbappé E dargli 100 l'anno Non viene Mbappé Perché sei la Roma Non viene perché sei la Roma Quindi tu devi crearti Un piano di crescita Che ti permetta Di arrivare a prendere Messi Che ti permetta davanti Di avere Messi Neymar e Mbappé Ma sapete che cazzo Ora io scherzo Rido Ogni tanto Vado un po' anche a schernire Leonardo Ma ci sta il gioco delle parti No si scherza e si ride Va bene Ma Leonardo ragazzi Siamo sinceri Ha fatto un gran lavoro Ora ripeto Con i soldi Con i soldi è più semplice Ma ha fatto un gran lavoro Hanno detto Ci fate vergognare Compratevi delle palle Siate degni Dovevi il vostro orgoglio Tutto questo perché? Perché praticamente Hanno vinto 1-0 all'anno Dominando per 90 minuti Ne potevano fare 40 Real Madrid Al ritorno Hanno fatto un primo tempo Impeccabile In cui Real poteva prenderne Degli altri Rimaneva attaccato Con le unghie E con i denti Al Paris Saint Germain Hanno preso 3 gol Praticamente nel giro Di 10 minuti Uno su un errore Di Donnarumma Uno su un errore Di Marquinhos Poi perché Benzema È fortissimo Contro il Real Madrid Hanno perso Per un totale Di 3-2 Sono usciti Tutto questo E la cosa ragazzi Che mi fa ridere Ho visto una scritta Nasser Out Ragazzi Ragazzi Ma Nasser Out Ma de che Ma de che Nasser Out Porca la puttana Che se non c'era Al Kelaifi Stavate ancora Veramente a giocare A brisco L'arbare Altro che Nal Parco dei Principi E il Parco dei Principi E il nome più indegno Della storia Prima dell'arrivo Di Al Kelaifi Ma santo cielo Ma santo cielo Ragazzi Il Paris Saint Germain Ora non è cattività Recuperatevi Il curriculum Della storia Del calcio La I Palmares Non è mai stata una storia Una squadra gloriosa A livello di storia Né nazionale Né europea Né nazionale Né europea È stata una squadra Con il livello di Roma Napoli Lazio Fiorentina In Italia Quindi squadra che vinceva Veramente poco Poco o nulla Che arriva È come se domani Arriva Lo sceicco Alla Roma Compra Gesù E la Madonna E tradisce Il mio melamento Perché ancora Non abbiamo vinto La Champions Oddio Scusate se ancora Non abbiamo vinto La Champions Vi chiedo perdono Ma porca la vacca Ma ricordatevi Le vostre radici Ma hai imbrattato Il centro estivo Ho imbrattato Lo stadio Dal 2010 Ho letto uno striscione Una scritta Dieci anni Di mediocrità Dieci anni Di mediocrità Ma voi state Tutti fusi Ma voi Il cervello Lo utilizzate Come fermaporte Ma porca la vacca Ma il gatto mio Ma il gatto mio Sarebbe più capace Di utilizzare Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ragazzi Io posso capire la critica Io posso capire tutto Ma allora Degli ultimi dieci anni Dal 2010 Quindi dodici anni Quello che cazzo è Dagli anni dieci Il Paris Saint-Germain Ha vinto sette Delle nove Ligan Della loro storia Sette Delle quattordici coppe di Francia Della loro storia Una metà Sei Delle nove coppe di Lega Della loro storia 8 Delle dieci super coppe francesi Della loro storia Hanno vinto Hanno vinto Una volta in finale di Champions 2010 No Sì 2020 2021 Mai fatto Mai fatto Non è mai successo Nella storia prima Una semifinale di Champions League Non gli capitava dal 94 Manco si chiamava Champions League Sono cresciuti Estremamente E hanno beccato il Real Madrid Avete beccato il Real Madrid E voi avete anche le palle Di dire dieci anni Di mediocrità Ragazzi Prima di Al-Khelaifi Prima di Nasser Che tra l'altro La proprietà prima del Parisian Jumea Prima di Nasser Era comunque ricca E vi ricorderete Stava facendo Mercato importante Vi leggo la formazione Vi leggo la formazione 2011-2012 Quella che Nasser Al-Khelaifi Ha preso per poi trasformarla In porta ci avevate Sirigu Sirigu Adesso ci avete Donnarumma Ci avevate il terzo portiere della nazionale Adesso ci avete il primo In difesa ci avevate Sako E Alex Sako E Alex Adesso ci avete Marquinhos E Kimpembe O Sergio Ramos A destra ci avevate Jallet E adesso ci avete Hakimi A sinistra ci avevate Maxwell Ma non era Maxwell Dell'Inter Era Maxwell Due anni dopo il triplete Che si portava avanti Col caretto E adesso ci avete Nuno Mendes Vogliamo fare Vogliamo fare il modulo 4-2-3-1 Lo inventiamo Proprio quello che prima Loro ci avevano In mediana ci avevate Matuidi E Tiago Motta Adesso per Matuidi Ci avete Paredes E per Tiago Motta Ci avete Verratti Sulla tre quarti Ci avevate Pastore Pastore E adesso ci avete Di Maria A destra ci avevate Menez E adesso Messi Ragazzi ma Da Menez a Messi Un attimo Tu ti giri un attimo Vedi Menez Grande Jeremia Oh Jeremia Messi Lionel Gesù Così eh Così A sinistra Ci avevate Nene E adesso ci avete Ne Sempre prima Ci avevate Me E Menez E adesso Me Si A sinistra Ci avevate Ne Ne E adesso Ne Imar Giusto per Per dire Punta Ci avevate Gameiro Gameiro E adesso Ci avete Mbappé Ma di che cazzo Dovete parlare Dieci anni Di mediocrità Ma cagatevi In mano E datevi uno schiaffo Non è cattiveria Ragazzi Non è cattiveria Ma fino a un certo punto Ma di che dobbiamo Parlare Ma di che dobbiamo Parlare Gli striscioni Gli striscioni Le scritte Imbrattati Io non ho parole Io non ho parole Io non ho parole Cioè pure Chi non dovrebbe mai La me Oh Io sai come l'avrei presa Se fossi dovuto Di poter parlare Giangelo Ma l'avrei riusicata Avrei detto Orca troia Ci proviamo l'anno prossimo Ma non perché Società Mi ha preso Donna Rumma Meglior calciatore Dell'europeo Mi ha preso Messi Mi ha tenuto Mbappé Mi ha tenuto Neymar Mi ha tenuto Verratti Mi ha preso Mi ha tenuto Di Maria Sergio Ramos Mi ha preso Vainaldum Mi ha preso Hakimi Mi ha preso Nuno Mendes Ho beccato il Real Madrid Sono uscito Dopo una partita Tra l'altro Di Cristo Nella quale Si è decisa la partita Tramite episodi E io ho anche le palle Di fare questa roba qui Io sono Sconvolto Sono sconvolto Sono sconvolto Pazzesco raga Fatemi sapere la vostra O magari sono matto io Fatemi sapere la vostra Io vi ringrazio Per aver visto questo video Tantissimi mi piace Buon shalalala E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Ciao raga